Comunque assurdo, è proprio questa infissa con gli zombie, cioè non è facile trovarsi. Io ho anche scavato un fossato pieno di soda caustica intorno alla casa di campagna di mia cia, come dice Max Brooks nel manuale di sopravvivenza ai morti viventi. Io invece ho dato disposizione di non essere cremato, così se casca un meteorite sulla terra che risuscita ai morti, risuscito pure io. Capito, tu sei quel genere di ragazzo. In che senso? No, è che per me si diventa zombie solo col contagio. Sì, 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 ho capito, però in realtà se tu ti ricordi, nel film... I morti che si svegliano e riescono fuori dalle tombe fanno parte di un immaginario medievale caricaturale che francamente un po' mi offende. No, ho capito. Io sono a scuola Romero, sai com'è? Sì, sì, però nella notte dei morti viventi si fa un menzion. Vabbè, tranquillo, tranquillo, ci hai provato. Se vuoi vedi qualcosa? Si fa un menzionale, un meteorite? No, non è la stessa cosa. I vampiri sono ricchi e fascinosi, sono tipo i tronisti del sovrannaturato. I vampiri? Invece, i zombie sono proletariato. Quanti anni c'hai te? 27. Non è meglio, ha fregno. Acqua a bum bum, acqua a bum bum. Io mi adeco, non vuoi seguire, no? Mi piacete, se lo seguire. Acqua a bum bum. Ma tanto me sentite? No.